Perché hai detto chiaro e tondo in sostanza la verità, perché nessuno merita di essere preso in giro. No, tu hai detto in sintesi non ci spetta di diritto un posto in Lega Pro, ma il Campobasso e Mario Gesuè e tutta la struttura faremo tutto il possibile per essere ai nastri di partenza della Lega Pro. Io penso Antonio che non raccontando la verità ci si fa solo del male da soli, quindi alla fine se il percorso deve essere molto breve si può raccontare qualche barzelletta, ma essendo che il nostro deve essere un percorso lungo e quindi avremo modo di stare parecchio tempo insieme, raccontare la verità ai tifosi e ai media è la cosa più giusta. Io penso che nessuno, dal mio punto di vista, meriti in questo momento la Serie C, nel senso che il campionato non è finito, nessuno ha vinto, perché decretare la vincitrice di un campionato con otto partiti da giocare mi sembra alquanto poco sportivo, per quanto poi ce la vogliono far digerire. Quindi detto questo, mi sembra corretto promettere, questo lo posso promettere, la voglia e il desiderio comunque di competere a un campionato di livello superiore e che sicuramente metteremo in campo quali sono tutti il nostro impegno, la nostra forza per poterlo raggiungere. Non dipende da noi, perché non siamo noi a comandare in Lega, ci sono altre persone, noi faremo tutto il possibile, ma ho anche detto, e mi sembra la cosa più bella, che nel momento in cui ci renderemo conto che questo non sarà possibile, per svariati motivi, e ripeto, che non dipendono da noi, dovremmo avere tutti, e dico tutti, compresi anche chi ci segue con compassione e rispetto, come fate voi, come fanno altre televisioni e giornali, riuscire a ripartire con l'entusiasmo che ci deve contraddistinguere per fare eventualmente, se non sarà possibile, fare la Serie C un altro campionato di Serie D e cercare di farlo compatti e uniti cercando di vincerlo. Nell'ultimo collegamento che abbiamo effettuato un mese e mezzo fa, circa, un mese fa, tu avevi fatto un giusto discorso, secondo me, sul calcio che deve rappresentare assolutamente un'occasione di ricavi. In quest'ottica, evidentemente, dicesti anche che giocare senza pubblico, soprattutto per società di categorie inferiori, diventa veramente problematico. Io ti dico solo la mia, io non credo che in attesa del vaccino anti-coronavirus o di una cura veramente risolutiva, non credo che a livello nazionale torneranno indietro sul fatto delle porte chiuse. Quindi, mi auguro di sbagliare, per carità, perché io sarei felicissimo. Probabilmente hai ragione tu, quindi purtroppo. Però conosco i miei polli, sarei felicissimo di sbagliarmi, ma purtroppo, come dicevi tu, anche tu conosci i polli perché hai parlato di tempi lunghi di burocrazia. Però ti voglio dire, in quest'ottica, come pensi che sia gestibile? Il discorso adesso, Serie D, Lega Pro è indifferente. Però il senza pubblico, evidentemente, sarebbe un problema, credo, abbastanza gravoso aggiuntivo. Mi fai una domanda difficilissima. Nel senso che non è facile trovare alternative al pubblico, nel senso che il pubblico c'è o non c'è, non è che si può in qualche modo andare ad organizzare qualcosa di diverso. L'eventualità unica della risposta più semplice da darti sarebbero i diritti TV, cosa impraticabile in Serie D, a meno che non si trovi il modo di, grazie alla collaborazione con delle televisioni, anche private, di mettere a disposizione del pubblico la possibilità di vedere la partita. Perché altri modi io non ne conosco e non ce ne sono. La cosa che, e lo dico, lo ripeto, mi fa un po' rabbia, è vedere un paese, un sistema calcio, adesso non voglio allargarmi al paese per andare su discorsi che poi non sono nemmeno di mia competenza, un sistema calcio che poi gira e rigira. Perché in queste settimane ho parlato tanto, adesso tanto è inutile fingere che non sia così in lega, ma gira e rigira, torna, si attorciglia sempre su se stesso e poi le regole fanno fatica a cambiare, non rendendosi conto che il calcio lo stanno strozzando in questo modo, non sta più diventando un prodotto interessante, sta scadendo la visione, sta passando la voglia di vederlo e di apprezzarlo. Però più che dare idee vedo poca intraprendenza e voglia di cambiare. Questa è la cosa che mi dispiace. Sicuramente da parte nostra, questo te lo posso dire, e se non ci sarà la possibilità di avere il pubblico dentro lo stadio, e faremo di tutto per averlo, perché spero che ci sia la possibilità, magari anche in numero di ridotto con determinate caratteristiche e rispettando determinate cose, di avere comunque una parte di pubblico allo Stato, la volontà è quella, se non sarà possibile avere i tifosi allo stadio, attraverso la TV, attraverso il sistema informatico, comunque portare la partita, in questo caso con un minimo di canone, ai nostri tifosi. Grazie. Grazie.